Il fascino è rimasto inalterato del made in Italy calcistico in Thailandia. Mario Ranieri, nome più seducente per i recenti trascorsi con Juve Romainter, scelta poco ispirata, il bovino messo all'istante da Gary Lineker, monumento del calcio inglese nato all'estero e cresciuto proprio nell'estero, setticismo generale, scuola che ieri s'era stata.